che preposizione usare con pasqua natale capodanno e tutte le altre feste a volte può essere un problema vediamo l'esempio da cui siamo partiti la frase era lunga l'ho tagliata più o meno diceva che in norvegia si pubblicano molti romanzi gialli nella pasqua il problema che pasqua si usa con la preposizione in e l'articolo solo in un caso che per esempio nella pasqua del 1980 è successo questo è un uso molto molto formale poco comune anche per il tipo di frase vediamo invece quale preposizione si usa negli altri casi nei casi più comuni si usa la preposizione a quando si vuole specificare il giorno preciso cioè la domenica di pasqua nel giorno di pasqua vediamo due esempi a pasqua vado a pranzo dai miei cioè la domenica di pasqua vado a pranzo dai miei a pasqua mangio la colomba la colomba al dolce tipico pasquale che si mangia un po in tutta italia vedete che qui mi riferisco a la domenica di pasqua al giorno preciso lo stesso varrebbe per natale a natale sono andata da mia madre per esempio l'altra preposizione che si usa con le feste è per in questo caso ci si riferirebbe a il periodo cioè la settimana di pasqua le vacanze di pasqua per pasqua quest'anno andiamo montagna per capodanno andiamo a sciare non vuol dire che noi il 31 andiamo a sciare e basta andremo a sciare nel periodo di capodanno nel linguaggio comune vedrete che a volte gli italiani non le usano in modo molto preciso per cui se qualcuno vi dice che a natale vado alle maldive non vuol dire che va il 25 dicembre il 26 dicembre ritorna vuol dire nel periodo ok ma in teoria bisognerebbe dire per natale allora rivediamo quindi la frase da cui siamo partiti e proviamo a correggerla metti in pausa il video e pensa come puoi risolvere il problema in norvegia si pubblicano e leggono molti romanzi gialli per pasqua per pasqua perché per il periodo di pasqua non nel giorno di pasqua dubito che le case editrici lavorino la domenica di pasqua per pubblicare romanzi gialli